Ciao ragazzi e buon 2025 a tutti. Avevo promesso che il 2025 l'avremmo introdotto con qualcosa di veramente innovativo ed eccoci qui con l'innovazione che arriva all'interno del canale. Di che cosa si tratta? Si tratta di una turbina eolica. Questa ragazzi è una turbina eolica che io la voglio definire la turbina degli amici di Telegram. Perché la turbina degli amici di Telegram? Perché diversi appassionati come me di energie rinnovabili e anche professionisti all'interno di Telegram perché ci sono, tengo a ribadire questo concetto, che ci sono tante persone professioniste all'interno di Telegram che piace esplorare, piace il discorso del fai da te, piace autoprodursi l'energia. Ebbene quel canale, quel gruppo, quel gruppo di amici, quella cerchia ristretta di persone ha dato vita e darà vita a questo progetto che vedete qui alle mie spalle. Questi amici hanno contribuito, chi più, chi meno, ognuno nelle proprie possibilità, a dare vita a questo progetto. Questo sarà il progetto del 2025, il progetto che andrà a stravolgere quelle che sono le regole del fotovoltaico. Perché oltre a catturare il sole, con questo progetto qui proveremo a catturare il vento. Per catturare il vento che cosa serve, ragazzi? Serve un generatore eolico. Ma soprattutto la missione di questo gruppo, di queste persone che, come me, hanno creduto e credono in questo progetto, è quello non tanto di produrre l'energia da fonte eolica, quindi dal vento tramite una turbina, questa che vedete qui alle mie spalle, con quello che vedete qua sotto nei miei piedi, è un generatore che io l'ho cercato, mi sono impegnato. È un generatore da 2 kilowatt reali. Quando l'ho cercato, il venditore la prima cosa che mi ha detto vuoi 2 kilowatt per giocare o vuoi 2 kilowatt veri? No, gli ho detto voglio 2 kilowatt assolutamente veri. E questi credo che saranno 2 kilowatt veri. Perché queste pale che vedete qui e la turbina che vedete qui ai miei piedi hanno un'apertura di un metro e sessanta. Può sembrare poco, ma in realtà vi assicuro che non è poco. Però c'è un però. Questo di qua non è un progetto per chiunque. Non è che io mi avvicino e dice bello, ora lo realizzo anch'io, lo metto in un paletto da cartellone segnaletica stradale e noi lo tiriamo in piedi. No, questo è un progetto che richiederà tempo. Infatti ci sarà una playlist dedicata proprio all'eolico che andrete a seguire voi passo passo nella realizzazione proprio del palo, del blindo, delle saldature, di tutta la parte che comporta un generatore del genere. Purtroppo dico non è lo compro, vai, lo metto e gira. No, perché questo ha un peso notevole. Qui abbiamo un peso, ragazzi, più o meno questo qua pesa intorno a cinquantina di chili, solo il generatore. Poi abbiamo la coda, questo qua è il bilanciatore, questa è la coda, queste sono le pale, qui c'è la chiavetta, ora dopo poi inquadriamo da vicino e vi faccio un attimo capire. Il concetto però fondamentale che tutti quanti hanno contribuito e ci siamo convinti e straconvinti e io in prima persona a realizzare questo progetto è il fatto che noi andremmo a caricare direttamente le batterie LIFE PO4. Qui di mezzo non ci saranno batterie tampone, batterie utilizzate per essere sacrificate, per andare a raddrizzare la tensione, assolutamente nulla. Noi andremo diretti sulle batterie LIFE PO4. Ovviamente qualcuno si sta già chiedendo come fai, come fate ad andare diretti sulle batterie LIFE PO4. Questo è un generatore che produce corrente alternata, lo sappiamo. Infatti questo generatore qui che produrrà corrente alternata sarà raddrizzata. Poi, quando i tempi saranno maturi, quando tutto va come deve andare, capirete che cosa viene utilizzato per raddrizzare questa tensione qui e mandarla diretta sulle barre della corrente continua che ospita la batteria, diciamo LIFE PO4. Quindi capite che è un progetto ambizioso che ci porterà via tanto tempo. Gli abbiamo iniziato, se non erro, e qualcuno dentro Telegram lo può confermare tranquillamente, le prime ricerche di primi prodotti, delle prime cose, sono partite a febbraio del 2024. I primi prodotti sul mio laboratorio sono arrivati intorno aprile, maggio, più o meno quello è il periodo. Questi prodotti sono stati provati per diverso tempo. Sapete che a me non piace assolutamente prendere e dire comprate. No, le cose vanno provate, non le ho portate dentro YouTube per i motivi che potete immaginare. Ora i tempi, dico, sono maturi perché quello che state vedendo qui alle mie spalle, ovviamente io ho già la certezza di tutto, tutto a banco è girato, tutto l'abbiamo provato, tutto va, quindi so che questo progetto lo porteremo in porto veramente. Adesso io stacco un attimo la telecamera, vi voglio far vedere come è composta questa turbina eolica da vicino per farvi capire che cosa ha mandato questa azienda. Qui ragazzi questo è già stato bullonato, l'ho bullonato perché l'ho voluto, la prima cosa che ho voluto provare, essere certo che andava. Qui vedete la piastra, questa una volta avvitata, questa piastra si va, diciamo, a inclinare. Vedete infatti che c'è l'inclinazione in funzione della pala, quindi man mano praticamente che la rosa della pala apre, infatti vedete che fa questo giro, man mano inizia a cambiare praticamente l'inclinazione. Quindi questo ventaglio qui inizia a inclinare, l'altro successivamente inizia a inclinare, l'altro inclina. Al centro, io ruoto questa per farvi capire, qui troviamo il foro, che poi c'è la fresatura dentro dove entrerà la chiavetta. La chiavetta serve a far bloccare, a far sì che l'asse dell'albero motore, dell'alternatore che girerà qua dentro, non giri a vuoto su questa flangia, ma bensì sarà ancorato in quella chiavetta qui. Quindi guardate qui, io questa la giro, da questo lato si capisce meglio, qui c'è il foro per la chiavetta, la chiavetta entrerà qua dentro insieme all'albero motore e quando questa girerà insieme a questa chiavetta farà sì che le pale trascineranno l'albero motore del generatore. Questa invece ragazzi, questa è l'asse del bilanciere, dove poi qua alle spalle, in coda viene agganciata la coda del generatore eolico, questa investita dal vento, in funzione della direzione del vento, cerca di tenere il generatore eolico girato verso la direzione favorevole al vento, in modo da far prendere il vento in funzione da dove viene, se arriva da sud, se arriva da ovest, da est, questa terrà la pala fissa in quella direzione, quindi avrà questo compito proprio qui. Questo invece è il bilanciere che ha il compito di andare a bilanciare tra il generatore e il peso delle pale stesse, quindi questo ha proprio questa funzione. Adesso ci spostiamo sul tavolino e vi faccio vedere tutto il resto degli accessori che ci sono. Qui ragazzi invece abbiamo il gruppo del generatore, quello che ho detto io prima, quando ho fatto la domanda al venditore, gli ho detto ma io voglio 2 kilowatt veri, e lui mi ha assicurato che comunque sono 2 kilowatt veri. Qui abbiamo ovviamente la targhetta con i dati, il fatto dei 2 kilowatt, i 2000 watt, il numero praticamente del, il voltaggio praticamente della batteria, che abbiamo un sistema a 48 volt, quindi andremo su batteria, qui abbiamo la data di produzione che è stato prodotto il 23.09.2024, quindi questo diciamo che l'hanno creato appositamente quando io ho ordinato diciamo più o meno questo generatore qui. Qui abbiamo il frontale della pala, quindi il cappello, il rosone, quello che andrà a coprire poi quella flangia davanti. Qui invece abbiamo tutto il resto, guardate ragazzi, tutto il resto della bulloneria, tutta bulloneria ovviamente in acciaio inox, l'unico bullone che non è in acciaio inox, poi andrò a capire il motivo della scelta di non mettere questo in acciaio inox, infatti ho chiesto al venditore però dico questo non è un grosso problema in quanto commercialmente un bullone del genere si trova tranquillamente in acciaio inox, ma voglio capire il motivo per cui non è stato, non l'hanno inserito loro in acciaio inox, perché tutto il resto della bulloneria, anche quelli che accoppiavano le pala alla flangia, sono tutta bulloneria in acciaio inox. Qui ovviamente c'è un manuale sul generatore, questo invece ragazzi è l'asse, l'albero motore, quello che esce dal generatore, infatti vedete che l'asse intanto è in maniera conica, quindi non abbiamo un asse cilindrico perfetto, l'asse è conico in modo da ospitare quelle pale lì. Una volta entrata la flangia della pala, questa vedete è la chiavetta, quindi questa chiavetta entra in quella scalanatura che vi ho fatto vedere prima nella flangia, nel sistema flangia e sarà quello che farà sì che quando questo gira, trascinato dalla chiavetta, farà sì che le pale inizieranno a girare. Questo è conico per il semplice fatto che tramite questo grosso bullone che vedete qui, adesso io ho messo questo per fare un test, per farlo girare con l'avvitatore e vedere che tutto girava, infatti vedete che è molto libero, libero ovviamente perché qui i fili dall'altro lato non sono messi in corto, se io cortocircuito questi fili, i magneti a neodinio dentro che sono contenuti all'interno della turbina vanno a bloccare l'asse, quindi una volta che bloccano l'asse questa rotazione non avviene più. Quindi questo bullone con questa grossa rondella è quello che proprio sarà abitato su questa filettatura che vedete qui che andrà a bloccare la flangia all'interno di quest'asse conico. Ovviamente ragazzi qui mentre che io parlo vi faccio scorrere qualche immagine di quando è arrivato, io non ho fatto l'unboxing ragazzi perché qui di unboxing c'è poco. Questo generatore, questa turbina eolica è stata comprata tramite, come ho detto all'inizio, e lo ribadisco e li ringrazio nuovamente alcuni amici all'interno del gruppo Telegram, è stata acquistata anche tramite me, tramite i miei sforzi, quindi la volontà di tutti noi ha portato all'acquisto di questo generatore eolico. Quindi c'è poco di fare unboxing, io vi faccio scorrere qualche immagine giusto quando è arrivata per far vedere le condizioni in cui è arrivata. Devo dire che è stata confezionata in scatoli in cartone, questa è la versione più piccolina, quindi non viaggia in grosse casse praticamente in legno, quelle più grandi viaggiano in casse in legno. Questa è arrivata nel cartone, era ben conservata, vedete qui le immagini che man mano scorrono mentre io parlo, tutto è arrivato assolutamente integro. I tempi di consegna ragazzi più o meno sono stati 90 giorni, 90 giorni perché questa qua non è stata merce che è arrivata via aereo o via nave, ma bensì è stata merce che ha viaggiato via treno, quindi più o meno i tempi d'attesa diciamo che sono stati 90 giorni, quindi quasi diciamo tre mesi per arrivare qui. Ovviamente lo ribadisco ancora una volta e ringrazio tutti i ragazzi all'interno del gruppo Telegram, ma mi sento anche di ringraziare qualora arrivassero nuove persone all'interno del gruppo Telegram interessate a questo progetto e volessero contribuire nell'avventura proprio dell'eolico per provare, sperimentare, provare qualcosa di diverso e quant'altro all'interno di questo progetto, quindi ringrazio tutti eventualmente anticipatamente. Ovviamente questo generatore, il riferimento di questo generatore non è tanto, ma produrrà, non produce col vento, produce poco, produce tanto, no. L'obiettivo è quello che questo generatore deve andare a caricare le batterie LIFE PO4 senza niente in mezzo, quindi non ci devono essere, come ho detto prima, batterie sacrificate, batterie che mi devo andare a produire, no. Quello che produce deve andare sulla barra con l'elettrice in corrente continua, quindi se il carico di casa tramite gli inverter utilizza corrente dalla batteria e c'è questo che la rende disponibile su quella barra alimenterà lui i carichi di casa. Se invece casa consuma poco e sul collettore ci si trova una batteria un po' scarica, questo generatore eolico deve entrare nelle batterie a litio. Ovviamente poi ci sarà applicata dell'elettronica. Queste sono tante cose che le scopriremo, come ho detto, nel corso del 2025 che porterà tantissime novità tecniche da questo punto di vista. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche perché il 2025 ci conserva tante e tante novità. Ciao a tutti!